Eliminare la fornitura di bottigliette di plastica durante le sedute di Consiglio Comunale, Giunta e delle Commissioni è la mozione targata Movimento 5 Stelle bocciata ieri sera dal Consiglio di Palazzo Cernezzi. Sono profondamente sconcertato dall'insensibilità al tema della produzione di plastica usa e getta da parte del Consiglio Comunale, contrariamente a quanto solo pochi giorni fa è stato espresso dall'amministrazione durante la conferenza stampa di consegna di circa 7.000 borracce agli studenti comaschi afferma Fabia Leotti, capogruppo pentastellato comasco. Poi il consigliere aggiunge, è stato chiesto ai bambini e agli adolescenti di avere un comportamento virtuoso e rispettoso dell'ambiente nell'utilizzare le borracce e non le bottigliette di plastica ma senza che tal esempio tocchi le abitudini dei consiglieri. Grazie 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 Grazie